Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato con una nuova pillola di trading da YAR Forex, come sempre, pillole di trading che riguardano il trading con la price action e quindi attraverso lo studio dell'azione dei prezzi per operare nei mercati principali, direi, dalle azioni al Forex, gli indici, le materie prime, le criptovalute, tutto ciò che è liquido può essere utilizzato ovviamente con la price action. Allora oggi il tema, che cercherò di essere riassuntivo breve ma efficace anche perché quello di cui parlerò oggi è semplice, non è nulla di così difficile ma che in effetti può essere molto molto, come dire, efficace, può avere molta efficacia nell'inserimento del proprio piano di trading durante le varie giornate, le varie settimane, i vari mesi dell'anno. Allora qui ho la mia piattaforma Turbo 24 dove ho i vari grafici, come sapete tutti i grafici sono sempre con un layout solitamente weekly, daily, weekly, daily, weekly, daily, a volte metto daily quattro ore quando magari ho bisogno di un ulteriore conferma, insomma questi sono i time frame, sapete che utilizzo maggiormente. Oggi però siccome si parla di trend, di macro trend, di trend di fondo, per me è importante mantenere al momento questo tipo di layout. Quindi quello classico, settimanale e giornaliero. Perché? Perché diciamo che nel cercare di operare sui mercati la cosa più semplice e devo dire anche quella che può dare maggiori risultati è quella di non cercare di combattere il trend di fondo, quindi andando contro quelle che sono le correnti forti dei mercati. Quest'ultimo anno e mezzo l'abbiamo visto, il dollaro forte per esempio, gli indici che scendevano, l'oro che scendeva, ma anche il petrolio in effetti che è sceso. Quindi dei trend molto persistenti, molto chiari e poi durante le varie fasi ci sono delle situazioni in cui questo trend cambia. Diciamo che andare contro a una corrente quando è molto precisa, è molto stabile, è molto forte, non è mai una buona idea. Poi ci sono per carità delle eccezioni, ci sono dei momenti in cui in effetti andare anche contro può essere remunerativo, per carità. Però oggi parleremo di trading nel trend, perché è quello che io affronto principalmente quando faccio trading, nel 90% dei casi quello che faccio è lavorare nel trend di fondo. Come vado a capire qual è la tendenza in tutti questi anni che sono nei mercati? Quindi, sapete, chi mi conosce da tempo sa che sono da tantissimi anni nei mercati, chi mi conosce da poco, ecco, glielo può confermare anche già solo guardare i primi video di questo canale YouTube che è partito nel 2010 e su cui nei primi video già discutevo di queste cose, della price action. e oggi appunto quello che voglio dirvi è inserite, come faccio io, questa media mobile esponenziale a 21 periodi sul grafico, in modo molto semplice. Tutte le piattaforme vi danno la possibilità di averla, quindi non ci sono dubbi che è molto molto semplice trovare qui su indicatori la media mobile esponenziale. l'andate a inserire, eccola qui, 21, io la utilizzo da 15 anni almeno, quindi la utilizzo da tantissimi anni e sono la media di giorni del mese dove il mercato è aperto, no? Eh, esponenziale perché pesa di più gli ultimi cinque giorni dei 21, quindi diciamo che va a muoversi più rapidamente rispetto agli ultimi movimenti di mercato, ok? Cerca di percepire prima un cambiamento, per esempio, o una continuazione. Cosa faccio? Vado a capire se il mercato, quindi vado a guardare, osservare se il mercato in questione sul grafico settimanale quota al di sotto o al di sopra di questa media. Quindi in questo caso, come si nota, il mercato quota al di sopra di questa media, da ormai una, due, tre, quattro settimane, e per me già qui c'è la percezione che il mercato è un mercato che, pur guardando il passato, si sta rafforzando rispetto a prima che aveva una tendenza short. Quindi in questo momento la tendenza per me diventa long, cambia. E poi però, per essere confermativo, anche la tendenza sul daily deve essere long. Quindi in questo caso, in effetti, il mercato, in questo caso euro-dollaro, è già da molte giornate, comunque in questo momento sta quotando al di sopra di questa media, tra l'altro facendo anche minimi e massimi crescenti. Quindi in questo momento stiamo parlando di mercato long. Quindi se io vado, per esempio, sul dollaro yen, questo per me è un mercato short, perché negli ultimi settimane, anche qui è cambiato con questa grande barra, siamo iniziati a quotare anche su barra settimanale al di sotto di questa media, e nel daily in effetti stiamo, in questo momento, al di sotto di questa media. Quindi per me anche questo è un mercato short. Possiamo andare avanti all'infinito. La sterlina è long, il dollaro australiano è long, perché comunque rimane lì. Quindi il dollaro canadese, USDCAD, fino a qualche giorno fa, aveva una situazione contraddittoria, cioè il settimanale era long, quindi rimanevamo al di sopra della media 21 sul settimanale, e qui invece sul daily siamo praticamente al di sotto, e su queste ultime giornate ci stiamo andando ancora sopra. Quindi, attenzione, questo è un mercato contraddittorio, non vado a tradarlo finché, per esempio, non si mantiene il weekly, ovviamente è sopra, e il daily mi formerà dei trigger operativi, dei miei segnali operativi, per andare long, quindi in linea con il trend di fondo. Il Nasdaq anche in questo momento è un po' contraddittorio, perché vedete, abbiamo una situazione short in questo momento sul mercato, nel senso che i prezzi sono al di sotto della media 21, e in questo caso sul daily siamo ancora al di sopra, siamo qui che ci stiamo sbattendo proprio sui minimi e sulla media, quindi in questo caso, attenzione. L'S&P 500 invece è long al momento, perché è vero, siamo sopra di qua, sopra di là, quindi al momento è più per andare lunghi, e via dicendo, ok? Ritorniamo sull'euro, cosa facciamo? Guardiamo un po' le situazioni e che cosa è successo nel passato. Se noi andiamo a vedere, ok, vi ho segnato due situazioni qui, molto molto interessanti, perché se io vado a inserire un rettangolo su questa zona qui, noteremo che è quest'area. Quindi nel momento in cui io sono sull'euro-dollaro, su questo periodo, quindi fine gennaio-febbraio 2022, il mercato dell'euro-dollaro era in un trend ribassista, quindi per me qui è meglio cercare sempre degli short e ancora meglio se anche il daily inizia a quotare al di sotto della media mobile. Se notiamo, guardate, dopo che era ritornato sopra, è ritornato sotto, e qui guardate, ci forma addirittura una pin bar con test di questi massimi a 13,85, che in due o tre giorni poi inizia a scendere e creare un movimento short. Quindi vedete, nel momento in cui lui rimane su e ci dà delle situazioni non chiarissime nella tendenza, quindi contraddittorie tra weekly e daily, magari è meglio star fermi, o comunque attendere delle conferme più attive, dove? Al di sotto della media mobile quando lui ci dà, per esempio, dei nostri trigger. Poi un'altra, guardate qua, anche qui, no? Mercato che è short, andiamo a vedere, è short sul weekly, quindi il weekly è, la tendenza per noi è andare short, ma qui iniziamo, vedete, andare su, quindi dobbiamo avere delle situazioni chiare che ci indicano lo short. Quindi noi potremmo anche valutare questo doppio massimo lower close che fa una falsa rottura, ma se vogliamo essere ancora più precisi, guardate, in questo caso abbiamo una pin bar FTV anche, in linea col trend, quindi il prezzo rimane al di sotto, vedete, di questa, della media mobile, quindi in questo caso abbiamo trend short sul weekly, trend short sul daily, tutto è chiaro e potrei andare avanti un sacco di tempo con questa situazione. Quindi nel momento in cui il mercato ritorna al di sotto della sua media, anche qui, no? Questo per esempio è stato fatto al 9 di giugno, quindi probabilmente qui, in questa situazione qui, vedete qua, se io vado a risegnare anche questa, questa dinamica qui, che eravamo quindi sotto alla media, questa qui, vedete che il mercato fa falso, rientra al di sotto della media, fa anche un doppio massimo lower, si può sfruttare per un paio di giorni di movimento, in realtà anche di più se si vuole stare più tempo, quindi diciamo che quando si va a operare nella tendenza di fondo, io ve lo dico per esperienza, è sempre meglio. Quindi nel momento in cui il mercato sul weekly è al di sopra di questa media, per noi è più long, quindi sul daily cercheremo delle conferme meglio se arrivano con una press action al di sopra della sua media, quindi anche nel breve. E al contrario, nel momento in cui il weekly ha un prezzo che quota, quindi il mercato scambia al di sotto della sua media sul settimanale, è meglio avere delle conferme di price action che anche esse lavorano, quindi con scambi sotto la media mobile 21 esponenziale sul daily. Questo diciamo che è, non voglio dire un trick, ma quasi un qualcosa che io tendo a osservare e che mi fa operare principalmente nella tendenza di fondo nella maggior parte dei casi. Poi ovviamente ci sono anche i momenti in cui si va a fare delle operazioni contro la tendenza, ma devono esserci delle situazioni chiare, mi viene in mente il dollaro yen negli ultimi tempi quando il mercato ha formato un FTV reversa, però non è questo il tema del video. Quindi spero che questo video possa esservi di aiuto sia se siete dei neofiti o comunque all'inizio del vostro percorso nel trading, sia se invece magari da un po' di tempo possa procurarvi diciamo nel vostro piano migliore efficacia e migliori profitti. Comunque scrivete un commento qui su questo video, date degli input anche per prossimi video che volete vedere che riguardano appunto il tema del trading e della price action. Io a questo punto ho finito, vi dico ovviamente se volete lasciare un mi piace a questo video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina così da avere tutte le notifiche dei video e delle live che facciamo. Per oggi è tutto, io vi auguro un buon trading simple e alla prossima. Ciao!